Allora, oggi iniziamo, come da programma, il penultimo capitolo del programma del corso. Come dicevo, in questa settimana di dicembre termineremo gli argomenti e poi ci dedicheremo solo più a fare esercizi in vista dell'esame. Oggi iniziamo a parlare di file. Ovviamente non dimentichiamo nulla di ciò che abbiamo fatto sulle liste e sulle liste di liste perché alla fine, diciamo così, sono contenitori di tipo diverso ma che ci servono tutti perché ciascuno, diciamo, ha la sua funzione. Tutti noi sappiamo cos'è un file. Sappiamo cos'è un file? Secondo voi cos'è un file? Un file cos'è? No, lo usate, non un computer, lo usate, salva un file, dove, come, cos'è? Dimmi. Un contenitore di dati, dice lui. È un contenitore sicuramente di byte che noi riconosciamo grazie a un nome. Cioè ho salvato la tesina che ho fatto con quel nome, un file tesina.doc. Allora, un file ha due cose, due caratteristiche importanti. Il nome e il contenuto. Ok? Il nome mi aiuta a ritrovare dove era quel contenuto e il contenuto, vabbè, è effettivamente ciò che ci metto dentro. Poi, non ci basta sapere il nome del file. Devo anche sapere dove l'ho salvato, in quale cartella, in quale folder è stato salvato. Quindi ho un meccanismo di organizzazione di questi file. Ma alla fine, una volta che l'ho trovato in una cartella, l'ho riconosciuto per nome, dentro avrà un contenuto. Perché diciamo cose così vaghe? Ma perché alla fine il concetto di file è un contenitore talmente generico che dentro ci può stare di tutto. Se io scrivo la mia tesina usando Microsoft Word, alla fine il contenuto del file sarà una sequenza di byte che il programma Word che l'ha creato sa come interpretare, sa come gestire. Se vi faccio i calcoli di quanto spendo per andare in vacanza su Excel e salvo quel file, diciamo banalmente in formato Excel, vuol dire che Excel, che è un programma, salverà il file sotto forma di una sequenza di byte sapendo lui, Excel, che cosa significano i vari byte che ci mette dentro. Cioè un file dal punto di vista del computer, dal punto di vista del sistema operativo, è comunque sempre una sequenza di tanti byte messi uno in fila all'altro. E infatti se voi andate sui gestori di file, esploro le risorse e cose simili, ti dice questo file qua ha un certo nome, ha una certa dimensione in termini di byte, e questo qui è 213 kilobyte. Poi essendo un file PDF, il contenuto di quel file sarà rappresentato in un certo modo che può essere letto e compreso solamente dai programmi che sono in grado di capire questo formato. Se io facessi la prova di aprire questo file PDF, non so neanche cosa sia, spero che non sia nulla di compromettente, dentro, voi sperate di sì, ma è difficile, sai? Dentro questo Visual Studio Code, in questo caso ci capisco niente, questo è un file PDF, vedete questo qua è .pdf, è una roba totalmente incomprensibile, ma perché? Perché Visual Studio Code, poverino, quando vede, ha aperto il file, sì, l'ha letto, sì, è stato capace a leggerlo, sì, perché non è che il fatto che si chiami .pdf lo rende un file speciale, semplicemente è una sequenza di byte. Visual Studio Code, come tutti gli editor di testo, interpreta i file secondo la codifica Unicode, quindi ogni byte, ogni gruppo di byte, sarà un carattere Unicode di cui molti sono lettere alfabetiche e altri sono simboli strani. È ovviamente incomprensibile. Questo, preso il PDF, ma se voi apriste un file Excel, un file PowerPoint, qualunque altro tipo, con Visual Studio Code, vedrete, vedreste, una schifezza del genere, una spazzatura del genere. Perché? Perché la maggior parte dei programmi salva i file, memorizza le proprie informazioni in un formato proprietario. Formato proprietario vuol dire un formato che capisce solo lei. Noi l'unica cosa che possiamo dire è che questo formato è salvato in base 2, in binario, come una sequenza di byte. E ogni programma sa come vengono salvate le informazioni e sa quindi come rileggerle. Quindi, a meno che non ci siano degli strumenti di importazione, esportazione, ottenendo i programmi che sono in grado di comprendere più formati diversi, praticamente ogni programma salva le informazioni come vuole lui, ma solo lui è in grado di reggerle. Questo è il caso generale. La maggior parte dei file sono fatti così. Se avete un file doc può essere letto solo da Word, un file XLS può essere letto solo Excel, un file PDF può essere letto solamente da un lettore di PDF, ce ne sono tanti in giro, ma te ne serve uno, se non ce l'hai non lo puoi aprire. È un file ex, è un file eseguibile che può essere eseguito solamente, contiene istruzioni macchina, quindi può essere eseguito solamente dalla CPU. Alla fine sono sempre byte. Ma se non so a cosa servono e come sono stati codificati, non riesco a leggerlo. Allora noi non entriamo in questa specificità perché ci sarebbe da impazzire a capire come è fatto un file in formato binario, anche per i formati binari più diffusi, perché sono molto complessi. Per cui ci ho messo questo segno di divieto dicendo noi qua non entriamo. Esiste però un'altra ampia famiglia di file che sono sempre binari, ma sono codificati in un modo più semplice, come testo. Come semplice testo. Cosa vuol dire un file che da adesso in avanti chiameremo un file di testo? È un file al cui interno le informazioni sono scritte semplicemente usando le stringhe, usando i caratteri unicode, i caratteri asci che conosciamo già. Allora non c'è nessuna codifica nascosta, strana, complicata, ma un file di testo è leggibile facilmente da chiunque. Allora avete degli esempi reali di file di testo? Un file che sia codificato direttamente attraverso i suoi caratteri testuali. Ne avete già creati qualcuno? Ne abbiamo già usato qualcuno? Sì. Cioè tutti i programmi in Python li salviamo e questi sono file il cui contenuto prendo il programma della scorsa settimana uno a caso questo file contiene adesso non ci interessa di saperlo leggere ma il contenuto del file sarà il primo byte è il codice della lettera F il secondo byte è il codice della lettera R il terzo byte il terzo byte è il codice Unicode della lettera O il quarto della lettera M e così via. Cioè ho una cosa una rappresentazione diretta di ciò che vedo come caratteri sullo schermo rispetto a ciò che viene salvato come byte all'interno del file. se io prendessi la stessa cosa questa stessa cosa ok? e aprissi Word e salvassi dentro un file Word questo stesso contenuto ok? e lo salvo questo mi salverà un file Word che si chiamerà come voglio io .docx ma il primo byte di questo file Word salvato non sarebbe l'F sarebbe una chissà quale codifica perché in realtà a Word si salva non solamente il testo cioè le singole lettere si salva anche il font la spaziatura la dimensione il colore le immagini l'allineamento la dimensione della pagina e tante altre cose che non sono riconducibili semplicemente a un carattere mentre invece quando noi programmiamo in un editor di programmazione come Visual Studio Code tutto ciò che conta sono le lettere che compaiono qua i colori non le scegliamo noi le aggiunge lui come evidenziazione sintattica ma sono una conseguenza della sintassi non solamente una cosa che viene usata in visualizzazione nel file non viene salvato il colore non possiamo cambiarlo non possiamo cambiare il carattere il font la dimensione o meglio possiamo cambiarlo nell'editor dicendo mi piace di più usare quest'altro ma nel file non viene salvato non è un'informazione che viene salvata in un file di testo vengono salvati puramente semplicemente i singoli caratteri ok quindi non li abbiamo chiamati i file di testo li abbiamo chiamati i programmi Python ma questo sono un programma Python è salvato semplicemente dentro un file di testo ma in Python o in C o in Java in tutto quello che volete qualunque linguaggio qualunque no scusate la maggior parte dei linguaggi di programmazione è alla fine il codice sorgente no il sorgente dei programmi si scrive quasi sempre sotto forma di file di testo con delle regole per carità non ho detto che puoi mettere i caratteri che vuoi in Python devi utilizzare gli spazi in C devi utilizzare i parenti di graffe che devono corrispondere devono essere indentate correttamente eccetera eccetera segui le sintassi del linguaggio ma i singoli caratteri sono salvati semplicemente senza nessuna formattazione aggiuntiva senza nessuna informazione aggiuntiva ma anche quando noi navighiamo su una qualunque pagina web alla fine una pagina web è noi la vediamo ne prendo una che non so la pagina del corso nostra no che sembra anche qui formattata con il calendario lezioni una tabella eccetera eccetera ma se andiamo a vedere questa è un'interpretazione che dà il browser di una pagina web che probabilmente molti sanno che in questo caso è una pagina dinamica quindi non si nota prendiamo l'altra che c'era prima che se andiamo a vedere è scritta in un linguaggio che si chiama HTML che è anche lì un linguaggio di testo vediamo solo caratteri poi da capire cosa c'è scritto qua in questo linguaggio e capire che questo rappresenta questa pagina vabbè bisogna capire come sono i comandi di questo linguaggio HTML però tutto il web tutte le pagine web tutti i siti web alla fine sono costruiti usando semplicemente del testo ok e quindi torniamo alla nostra slide ci aggiungiamo l'HTML ossia i siti web e sono tutte applicazioni di tipo file di tipo puramente testuale ma possiamo anche scrivere degli appunti delle note se apriamo blocco note per scrivere delle nostre note possono benissimo essere in formato testuale quando noi scriviamo dei messaggi su Telegram quello è testo poi abbiamo un minimo di comandi di formatazione ma li rappresentiamo sempre con l'asterisco con il sottolineato eccetera ok quindi da un lato ci sono alcuni linguaggi che sono rappresentati in modo testo ma strutturato con delle regole che insomma il Python finirebbe qua l'HTML finisce qua il Python finisce qua è un testo rappresentato come testo ma deve seguire certe regole di sentarsi opportune oppure ho un testo libero tipo questo prendo delle note prendo dei messaggi sono qua note messaggi posso scrivere ciò che voglio quando scrivo un messaggino su Whatsapp o su Telegram non sono obbligato a seguire una certa sintassi poi se ogni tanto qualcuno si ricordasse la sintassi italiana sarebbe bene ma non c'entra con la non è la parte informatica ok il testo libero normalmente scrivo appunto dei testi descrittivi delle descrizioni delle narrazioni oppure posso usare anche un file di testo per rappresentare dei dati io prima aspettavo di iniziare ho detto ma proviamo a farci un file l'ho chiamato voti.txt in cui magari mettiamo i voti degli esami di questo semestre lo posso scrivere in qualche modo ma posso darmi una regoletta in cui dico vabbè allora ogni esame lo scrivo uno per riga ci scriverò il nome del corso il numero di crediti e il voto che ho preso questa è un'informazione è un'informazione di tipo strutturato perché un voto è dato da nome dell'esame numero di crediti e punteggio acquisito che decido di salvare semplicemente in un file di testo voi direste vabbè io avrei affatto un file Excel magari sì per carità magari mi dava più possibilità di fare operazione eccetera ma se non sono capace in Python a aprire modificare leggere un file Excel posso ottenere la stessa cosa semplicemente tramite un file di testo e quindi ricado in una serie una casistica in cui ho dei file di testo strutturati che memorizzano dei dati qui sono chiamati record capiremo un po' meglio più avanti cosa intendo con questo termine uno per riga ad esempio in questo caso separati da uno spazio ho separato il nome del corso spazio numero di credit spazio voto che ho preso poi potrei avere la data potrei avere altre informazioni in questo caso è un formato che mi invento io che si basa su un file di testo allora noi impareremo a gestire con i nostri programmini in python file di testo sia di tipo strutturato quindi che contengono dati fate uno scrivere grosso dati strutturati informazioni strutturate sia testi mi sono scappato sia testi la storiella il messaggino eccetera eccetera semplificati chiaramente quindi quello che chiamiamo un file di testo che contiene del testo libero oppure un file di testo che contiene dei dati strutturati secondo certe mini regole di sintassi devo darmi un po' di ordine ovviamente non andremo ad approfondire né i file binari perché ce ne sarebbe veramente un milione diversi anche se in realtà ci sono molte librerie python che ti permettono di leggere ma poi la struttura interna di questi file è già complicata né i file strutturati che hanno della sintassi più complicata tipo un html un python eccetera eccetera ok quindi questo è un po' il contesto in cui ci mettiamo quindi impariamo a fare in modo che i nostri programmini siano in grado di leggere ed elaborare questi file ad esempio col file letto degli esami mi dice qual è la mia media pesata supponendo che abbia preso questi voti ok cioè devo fare 8 per 30 più 10 per 25 più 8 per 28 il tutto diviso 8 più 10 più 8 no? ok questo è ciò che no vogliamo imparare a fare quindi questi file di testo sono dei contenitori di informazione abbiamo capito che sono contenitori di caratteri e poi questi caratteri sono gradiati per linee e gli diamo un certo significato che però non stanno dentro il programma cioè quando io creo una lista questa lista sta nella memoria i dati della lista stanno nella memoria del programma quando io ho un file salvato immaginate di averlo su una chiavetta e avete un programma che avete scritto poi mettete questa chiavetta nel computer il computer virgolette vede questa chiavetta vede questo file ma il programma continua a girare per i fatti suoi le variabili del programma non vedono subito il contenuto del file ma meno male perché immaginate se il vostro programma nel momento in cui parte vedesse tutti i contenuti di tutti i file sul vostro computer come fai a gestire tutte queste variabili qua che non sai neanche cosa sono no un file è un dato separato rispetto al programma che il programma può quando vuole e se vuole leggere il contenuto quindi il programma è in esecuzione avrà le sue variabili se vuole il programma a un certo punto dice ma senti mi servono un po' le informazioni che sono scritte lì dentro e allora legge il contenuto del file oppure il programma fa delle operazioni e quindi sa vuole salvare queste informazioni in un file che poi possa sopravvivere per altri scopi e allora decide di scrivere il contenuto del file noi quando usiamo i programmi abbiamo una terminologia più del tipo apri e salva poi a basso livello apri e salva è fin troppo sofisticato perché come dice apri un file vuol dire che poi Word si ricorda che quel file lì è aperto si ricorda è una cosa un po' complicata e allora da implementare non è automatica noi vedremo operazioni più di basso livello apro un file lo leggo ci faccio cose sui dati e poi eventualmente riscrivo le informazioni quindi useremo leggere, scrivere e non aprire e salvare perché sono le operazioni più semplici ci concentriamo prima sulla lettura e poi vediamo sulla scrittura che non è molto diverso allora se io voglio che il mio programma in Python conosca il contenuto dei dati che sono presenti in un file la prima cosa che devo fare è creare un collegamento a quel file dire al programma Python guarda i dati che mi servono sono in un file che si chiama in questo modo cosa abbiamo detto prima un file realizzato innanzitutto da un nome devo sapere dov'è e come si chiama una volta che so dov'è e come si chiama posso accedere al suo contenuto non prima allora c'è un'operazione di apertura che si usa che si ottiene usando una funzione che si chiama open attraverso la quale proprio il programma Python va a cercare sul sul disco del computer sull'hard disco del computer un file per nome dandogli il nome quindi ho fatto un altro file anche qua di esempio più piccolo non più piccolo ma più semplice l'ho chiamato dati.txt ci ho messo dentro 20 numeri random da meno 100 a 100 sono andato su random.org ho detto sputami un po' di numeri a caso immaginiamo che ci servono questi numeri perché sono fondamentali per la nostra esistenza quindi il nostro programma ha bisogno di leggere questi numeri qua li ho salvati precedentemente in un file che si chiama dati.txt e magari vogliamo sapere quali sono metterli in ordine per dire dal più piccolo al più grande allora mi faccio un mio programmino nella settimana 10 in cui creo un programma numeri .py e quindi voglio leggere il contenuto i numeri presenti nel file dati.txt e stamparli in ordine crescente di numero in ordine di valore stamparli chi è che mi ha rubato la L ok? allora operativamente cosa devo fare? beh come prima cosa devo collegare il file al programma al mio programma python quindi avrò usando questa funzione open che ha come primo parametro il nome del file che voglio leggere e restituisce un riferimento a quel file non restituisce il contenuto del file non ancora non lo legge ancora il file però si predispone per leggerlo si predispone per potervi accedere mi dà un oggetto chiamiamolo oggetto file attraverso cui potrò poi leggere attraverso cui potrò poi scrivere sul file vero e proprio quindi l'istruzione è molto semplice scrivo file uguale open il primo parametro è una stringa che indica il nome del file che voglio aprire il file si chiamava dati.txt scrivo dati.txt poi mi serve un secondo parametro attraverso il quale io dichiaro che cosa ci voglio fare con questo file lo voglio solo leggere e quindi non modificare lo voglio modificare riscrivendolo da zero lo voglio modificare aggiungendo cose a un file che c'è già eccetera eccetera c'è c'è varie modalità di lavoro la più semplice è quella di dire io lo voglio solo leggere e il secondo parametro è una stringa che identifica con dei codici poco comprensibili la modalità di accesso qui vedete ci sono tutte le modalità di accesso possibili a un file di cui alla fine quello che ci interessa è la R R che sta per read leggi lettura ci sono se non sbaglio è qua c'è una slide che riassume le modalità di apertura principali del file le due che useremo principalmente sono leggi un file quindi non lo modifichi oppure scrivi un file cancellando quello che c'era prima eventualmente con lo stesso nome e riscriventolo da capo quando poi scriveremo poi c'è una modalità di append che aggiunge in fondo e altre modalità che per scopi più avanzati che diciamo così in questo corso non avremmo bisogno di vedere allora cosa succede con questa istruzione open che da questo momento in avanti il mio programma python ha una variabile file che fa riferimento alla sequenza di dati che è memorizzata all'interno del file che si chiama in quel modo attraverso questa variabile file posso accedere in questo caso l'ho aperto in lettura quindi potrò leggere il contenuto del file come fossero delle input solo che le input legge da tastiere dall'omino che deve pigiare sui tasti per darmi le risposte le operazioni di lettura del file leggeranno i caratteri le righe che sono presenti sul file di testo e ci sono varie modalità attraverso cui si può leggere adesso vedremo le varie operazioni ma prima di vedere le varie operazioni di lettura tutto ciò che si apre va chiuso quando io ho bisogno di leggere il contenuto di un file devo innanzitutto aprirlo e poi dopo leggerò il suo contenuto questo aggancia crea un collegamento tra il mio programma e il file stesso poi arriverà un momento in cui non ho più bisogno di leggere da quel file perché magari oggi ho letto tutti i dati che mi servivano il programma deve fare altre cose oppure deve andare a leggere un secondo file che non c'entra più col primo allora dovrò dire al sistema operativo di fatto senti grazie ho usato il contenuto di quel file non mi serve più rompi il collegamento finora quando usavamo una variabile una lista anche un contenitore quando non ci serviva più smettevamo di usarlo però rimaneva sempre a noi non è che dovevamo ah questa lista non mi serve più la devo cancellare ma no chi se frega è una mia variabile qui invece sto usando una risorsa che è esterna al programma quindi è opportuno che rilasci liberi questa risorsa nel momento in cui non mi serve più perché magari c'è un altro programma che vuole leggere o modificare lo stesso file quindi ogni volta che apro un file devo ricordarmi quando ho finito di lavorarci di chiuderlo e questo si fa semplicemente chiamando il metodo close sull'oggetto file o poi se ci dimentichiamo di fare close e il programma è breve non capita niente nel senso che quando il programma termina il file che aveva eventualmente aperto vengono automaticamente chiusi però se il programma va avanti dopo aver letto il file fa altre operazioni allora conviene ok ho finito di leggerlo lo chiudo quindi questa è l'ultima istruzione che si scrive ma io la scrivo per prima così non me la dimentico perché altrimenti poi il focus va su ciò che faccio in mezzo e mi dimentico di fare la close ok in mezzo abbiamo detto devo leggere questi numeri e stamparli come faccio a leggere sto cercando di leggere un contenuto da un file che ho appena aperto ci sono tanti metodi che agiscono tutti sull'oggetto file qui nelle slide chiama in file per ricordarci che è un file in ingresso detto in lettura in altri esempi si chiamerà out file per indicare che è un file aperto in scrittura chiamatela come volete questa variabile ho vari metodi che mi permettono di leggere il file un pezzo alla volta o tutto insieme posso leggere un solo carattere per volta posso leggere n caratteri posso leggere un'intera riga posso leggere l'intero file voi immaginate noi dobbiamo immaginarci che quando noi abbiamo aperto un file concettualmente noi abbiamo un cursore immaginario che è posizionato prima del primo carattere del file dove ho messo io adesso il cursore dell'editor quindi quando un file è aperto io non ho ancora letto nulla e quindi l'oggetto file è posizionato posizionato il proprio cursore prima del primo carattere io ho un file aperto in lettura cosa posso fare? posso leggere dei contenuti ogni volta che leggo qualche cosa leggo cinque caratteri uno due tre quattro cinque ad esempio questi da qui non riesco a toglierla stai brava vabbè facciamo finta che non la vediate ho letto cinque caratteri cosa succede? succede che questi cinque caratteri costituiranno una stringa di lunghezza cinque che in questo caso contiene meno sei uno a capo perché a capo è un signor carattere come tutti gli altri meno cosa me ne faccio di una stringa fatta così non lo so niente ma a lui non interessa gli ho chiesto dammi cinque caratteri e me ne date cinque ma contestualmente ha spostato il cursore in avanti di cinque caratteri in modo che la prossima volta che deciderò di leggere uno, due, sette caratteri in novanta legge a partire dalla posizione a cui è arrivato in precedenza con questo cursore il cursore si può spostare solo in avanti non può tornare indietro non può sballonzolare che vuol dire che il contenuto di un file si può leggere solo dalla prima riga verso l'ultima e una volta che ho letto un carattere questo è perso per sempre non lo posso più rileggere una seconda volta in realtà il modo c'è beceramente chiudo riapro il file e mi riporto il cursore all'inizio poi ci sono modalità di apertura del file in cui il cursore si può spostare ma non complichiamoci la vita alla prima lezione immaginiamoci che la lettura di un file è un processo sequenziale parte dal primo carattere arriva fino all'ultimo non si può tornare indietro quindi io in fase di programmazione ci devo pensare ok? devo pensare che una volta che ho letto un dato questo dato non lo potrò più leggere quindi se mi serve me lo devo salvare da qualche parte se no è perso e anche il modo con cui lo leggo deve essere utile al modo in cui lo uso ad esempio leggere 5 caratteri è una cosa un po' stupida perché mi legge un numero e poi un pezzo di un altro per leggere questo dato di questo file devo tener conto del formato in cui è scritto e questo è il formato in cui contiene dei numeri uno per riga quindi mi serve una operazione che sia in grado di leggere una riga per volta del file poi che questa riga contenga 4 cioè un carattere solo o meno 45 cioè 3 caratteri la mia regola è leggi fino alla fine della riga un po' come una input input da tastiera leggi fino a quando l'utente non batte in via allora questo c'è questo metodo in questa slide mi dice guarda c'è un metodo che si chiama readline che legge una riga dal file quale una riga ma quale la prossima quella a partire dalla posizione del cursore fino alla fine della riga poi se richiamo readline una seconda volta leggerà la riga successiva quella sotto e così via ogni volta mi mangia una riga nuova e quindi cosa fa readline legge tutto il testo partendo dalla posizione attuale del cursore all'inizio vuol dire dal primo carattere del file fino a quando non incontra il fine linea il quale viene considerato come parte della linea stessa quindi se io chiamo readline la prima volta mi restituerà una stringa di 4 caratteri meno 6 1 a capo ok perché la capo fa parte della prima riga e poi lì si ferma perché ha trovato la capo chiamo readline una seconda volta altra stringa di 4 meno 7 8 spazio eccetera proviamo a vederlo vuol dire che se io faccio stringa riga s perché è una stringa uguale file punto readline readline non ha parametri non ha argomenti non ha bisogno di niente io posso stampare s e mi stamperà in teoria la prima riga del file meno 61 e poi vedete che qua c'è una riga vuota perché meno 61 era seguito da uno spazio se vogliamo vederlo meglio uso questa funzione repr che mi stampa una rappresentazione esplicita del contenuto mi fa vedere che ciò che c'è questa stringa s è fatta da è in realtà una stringa fatta da questi 4 caratteri meno 61 e barra n questo è ciò che ho letto qua se poi ripeto queste due istruzioni sotto la seconda volta mi stamperà il secondo numero occhio che questi sono separati da una riga vuota perché in realtà io sto stampando due a capi se si può dire a capi in plurale una capo è già dentro la s l'altro capo ce lo aggiunge di suo la print perché non l'abbiamo soppresso allora se io voglio leggere questi dati vabbè ovviamente non è che leggo una per la volta i dati li metto in una stringa li leggerò in un ciclo in un ciclo in cui guai qualche cosa leggerò ogni volta la prossima riga ok quindi che ne so se io volessi leggere le prime tre righe del file contiamo fino a tre e questo mi stamperà leggerà e stamperà le prime tre righe del file una cosa che normalmente ci dà fastidio è che questo as contenga a sua volta il fine riga il carattere barrenne rompe abbastanza le scatole quindi una cosa che si fa spesso è quando ho letto una riga del file chiamo il metodo rstrip se ce lo ricordiamo prende una stringa e cancella la strip cancella gli spazi a sinistra e destra della stringa rstrip r sta a destra right cancella solamente gli spazi in fondo spazi tutti gli spazi caratteri non visibili quindi spazio a capo tab eccetera quindi questo fa sì che quel barrenne che ci dava fastidio venga tolto e non lo memorizziamo nella s e quindi in questo modo ci stampa i numeri senza questo a capo esagerato ma vabbè teniamocela buona per dopo questa cosa perché adesso ci serve ancora un dettaglio ok qui ho scritto while c minore di 3 però io non so quanto è lungo il file io dovrei leggere tutti i numeri contenuti nel file quindi ho bisogno di qualche cosa che mi dica quando è che il file è finito un'informazione che mi dica quando è che posso terminare il file scusa terminare la lettura perché ho già letto tutte le righe del file allora la read line un pochino ci vuole ci può aiutare perché nel caso in cui io abbia già letto l'ultima riga del file e quindi non ci sia più niente da leggere se chiamo ancora una volta read line questa mi restituisce stringa vuota scritto là quindi io potrei leggere tante volte le righe del file fino a quando non incontro la stringa vuota quello mi dice che non c'è più niente da leggere quindi questo come si può codificare e qui dovremmo mettere while s diverso da stringa vuota è la mia condizione ovviamente come abbiamo già fatto tante volte qui abbiamo una condizione che funziona nel caso normale ma sulla prima riga sulla prima iterazione devo precaricarla questa variabile quindi farò il solito giochino di mettere per primo e per ultima questa stessa istruzione in cui la prima volta la read line la faccio fuori dal file la faccio fuori dal ciclo se il file ha almeno una riga questa s che viene letta è diversa dalla stringa vuota quindi questa riga viene elaborata in questo caso la sto stampando e poi leggo la riga successiva se c'è una riga successiva questa verrà valutata diversa da vuoto nel while e quindi viene elaborata questa seconda e questo lo ripeterò tante volte fino a quando a un certo punto la read line di linea 9 non trova più niente ce la trova alla fine del file in questo caso la read line trova una stringa vuota la mette dentro s e questa condizione mi fa uscire dal while e quindi ho letto e stampato tutti i numeri fino all'ultimo compreso 72 vediamo se era l'ultimo davvero sì era l'ultimo l'ho letto e stampato quindi sono in grado di iterare sulle varie linee di un file grazie al fatto che la funzione di lettura di una riga read line fa due lavori in uno controlla se il file è finito e nel caso in cui il file è finito restituisce stringa vuota se invece il file non è finito legge l'intera riga fino al bar n che la termina e restituisce questa riga nel caso in cui il file non sia finito read line restituisce sempre una stringa di almeno un carattere anche se avessimo una riga vuota non è la stringa vuota perché una riga vuota è fatta da niente a capo quindi il carattere di a capo ci sarebbe comunque ok quindi non c'è confusione uno può dire mi hai detto che il read line restituisce una stringa vuota quando sono alla fine del file e quando c'è una riga vuota come fare a non confondersi non si confonde perché una riga vuota non è davvero vuota un carattere c'è sempre che è il carattere di a capo noi non lo vediamo ma c'è quindi anche in questo caso se ci mettessimo questa riga vuota qua il programma funzionerebbe tranquillamente a un certo punto però ci mette un buco non è il numero che stampa qua vedi che c'è il buco in più che ha stampato il numero invisibile ma che comunque esiste adesso togliamo questa riga ok adesso il programma cosa fa legge sta leggendo dei numeri no sta leggendo delle righe delle stringhe questo programma qua se io anziché dei numeri ci mettessi dentro delle stringhe dei commenti delle cose strane lui non se ne accorge nemmeno gli ho detto leggi una riga fatta di caratteri fino al fine linea non dà errore non fa nulla perché non sta neanche devo dire guardando ciò che legge adesso per fare ciò che ci richiede il testo che ci siamo dati devo stamparli in ordine crescente di valore che vuol dire che devo metterli in una lista e poi ordinare questa lista va beh è come dire leggi dieci numeri da tastiera e metti in una lista dati uguale lista vuota e poi ogni volta che ho un dato anziché printarlo stamparlo gli farò dati punto append int di s int di s voglio avere una lista di interi non una lista di stringhe perché se no quando faccio il sort me lo ordina come stringhe sicuramente me lo sbaglia l'ordinamento la riga la devo leggere come stringa perché c'è il bar n dentro perché mi serve per capire se il file è finito o no ma una volta che l'ho letta questa stringa probabilmente voglio estrarne il valore che c'è dentro in questo caso un valore un numero intero in altri casi potrebbe essere una stringa un testo allora andrebbe bene così in questo caso sono dei numeri quindi li converto in numeri interi e poi vabbè che si vuole che ci faccia una volta che li ho dentro dati farò dati.sort e stampo lo posso anche fare dopo che chiuso il file perché una volta che ho letto i dati li ho messi in una mia lista poi è la lista che conta che io ho qua sotto dal più piccolo al più grande quindi questo è il classico ciclo un possibile classico ciclo di lettura di un file leggo una riga per volta finché ci sono righe da leggere e per ogni riga faccio qualcosa col dato che ho letto in questo caso lo aggiungo in una lista quando ho finito di leggere quindi quando sono alla fine di questo ciclo while vuol dire che ho già letto l'ultima riga del file compresa e non ho più niente da fare su questo file non posso fare altro che chiuderlo e andare avanti con la mia vita ma i dati che erano presenti nel file adesso me li sono portati in memoria cioè il file continua a stare là fuori dal mio programma python ma i dati che conteneva o una parte di questi dati quella che mi interessava me la sono portata dentro una mia variabile dentro la mia lista e da questo momento in avanti lavoro con la lista ok quindi questo usando readline poiché questo meccanismo è frequentissimo leggere un file una riga per volta python ci dà una versione semplificata interpretando un file come un contenitore di righe allora quando io dico la parola contenitore ci salta in mente una string è un contenitore un range è un contenitore una lista è un contenitore e quindi ci posso iterare sopra con l'istruzione for allora se io faccio un for su una lista ad ogni iterazione mi dà un valore successivo della lista se ho appena detto che un file è un contenitore di righe potrò fare un for sul sul file e ad ogni iterazione mi darà una riga che è una stringa ovviamente dei caratteri presenti su quella riga quindi questo stesso codice lo posso scrivere più comodamente for s in file dati punto append quindi un file aperto in lettura è un contenitore di righe non di caratteri quindi ogni volta che itero su un contenitore mi dà ad ogni iterazione l'elemento successivo in questo caso la riga successiva perché il file viene automaticamente diviso per righe quindi il lavoro che facevo di leggere una riga con readline me lo fa in automatico il ciclo for e automaticamente anche lui si accorge quando il contenitore è finito così come il for su una lista si accorge da solo quando la lista è finita quindi mi devo semplicemente concentrare a dire ok questo è il file che ho aperto in lettura questa è la variabile s che memorizza la singola riga cosa ci devo fare con questa riga i dettagli dell'iterazione se li smazza il for e quindi se tutto se non ho sbagliato niente eseguendo questo programma fa esattamente lo stesso lavoro per questo in questa slide di prima ho scritto che per leggere una riga per volta posso usare o la funzione readline oppure semplicemente un ciclo for funziona nel stesso modo tra l'altro li posso anche mescolare tra di loro non c'è problema posso fare una readline perché magari nella prima riga c'è il titolo e poi un for per leggere le righe successive non è un problema c'è una piccola differenza tra fare un for su una lista e fare un for su un file perché se io facessi due for uno dopo l'altro su una lista e un altro for sulla stessa lista il secondo for ricomincio dall'inizio se invece faccio un for su un file e subito dopo rifaccio un for sullo stesso file il secondo ciclo non viene eseguito mai neppure una volta perché il cursore era mai al fondo non ritorna indietro ok quindi se mi servisse dovrei chiudere e riaprire il file questo è il caso forse più semplice più comodo poi in casi particolari io potrei leggere il file un carattere alla volta oppure un certo numero di carattere alla volta col metodo read quindi read non va a vedere la fine linea la meta linea eccetera chiedo tre caratteri mi da tre caratteri se ci sono se sono alla fine del file me ne darà solamente due o uno o nessuno dipende da quanti ce ne sono non è così utile normalmente in un file di testo per il tipo di file che abbiamo scelto di elaborare non ha senso quasi mai senso leggere un carattere per volta oppure ci sono altri due metodi molto più violenti che in un'unica istruzione leggono tutto il file read che mi da un mega stringone un'unica stringa che contiene tutto il contenuto del file dal primo carattere all'ultimo compresi i caratteri a capo in mezzo poi di questa stringa di diecimila caratteri poi sono tutti fatti miei di andarmi a spezzare dove comincia la riga dove finiscono le righe eccetera eccetera di fatto tratto il file come fosse un unico blocco e poi dopo con calma vado ad analizzarmi questa stringa farò delle split farò delle operazioni che poi me la separa readlines fa una via di mezzo readlines legge l'intero file e anziché restituirmi una stringa unica mi restituisce una lista di string quindi è come facesse una read e poi una split sul carattere di a capo mi restituisce una lista contende tante string e ciascuna stringa è una riga del file che poi sono le stesse righe che leggiamo qua la differenza è che questa readlines il ciclo for è dentro la funzione readlines e mi dà già una lista di string quando mi serve una lista di string posso anche usare questa me le legge tutte insieme c'è poca differenza diciamo che la maggior parte dei casi probabilmente sarà più comodo usare questa così man mano che leggo elaboro con una readlines leggo tutto in un botto solo e poi però devo andarmi a elaborare una per volta ma poi lo vedremo negli esercizi questo è l'esempio che avevamo fatto ricordiamoci sempre che tutte queste funzioni di lettura del file leggono sempre solo string ok poi estrarre i dati da queste string lo dobbiamo fare noi cancellare il barrenne perché ci dà fastidio convertire in intero convertire in reale lo dobbiamo fare noi se il file contiene più dati sulla stessa riga ci dobbiamo dividere noi siamo solo noi che sappiamo come è fatto il formato di quel file l'unica facilitazione è il fatto che la funzione float come la funzione int se dobbiamo leggere dei numeri ignorano già da sole cioè non gli dà fastidio il carattere di a capo finale quindi non dobbiamo toglierlo il motivo per cui qua ho fatto int di s senza fare la strip del carattere di fine linea è perché la funzione int non dà fastidio lo ignora già da sola è un'unica facilitazione allora prima di fare il secondo esercizio voglio fare quello dei voti volevo trovare dove diamine le ho messo non sono qua due slide che sono relative eccolo qua a vs code allora quando io apro un file fatto in questo modo prima ho detto un file ha un certo nome ma poi devo anche sapere in quale cartella si trova allora quando faccio open in quale cartella va a cercare il file il mio caro vs code il mio caro python che viene lanciato da vs code allora normalmente per default quando installate vs code quando cercate di aprire un file lui lo cerca nella cartella principale del progetto quindi se voi avete in questo caso si chiamerebbe la cartella settimane lo cercherebbe lì e quindi non me lo troverebbe nella cartella questo file qua è in una sottocartella che si chiama settimana 10 dovrei scrivere open settimana 10 barra e la barra devo mettere doppia perché sarebbe un carattere di escape dati.txt perché lui va a cercare un file a partire dalla cartella principale del progetto questo è un comportamento che trovo scomodo e c'è il modo di insegnare per fortuna a visual studio code di dire guarda vai a cercare i file dati i file che apri nella stessa cartella in cui si trova il file python che stai eseguendo allora se voi avete un progetto un file per cartella o se mettete tutti i programmi nella stessa cartella quindi aprite open folder una cartella e ci lavorate dentro non vi fa nessuna differenza però se all'interno di questa cartella di questo progetto diciamo così fate tante sottocartelle allora è diverso sapere che il file viene aperto nella cartella principale viene cercato nella cartella principale o nella cartella che contiene il vostro programma python questo si imposta facilmente c'è un'impostazione nelle settings di visual studio code che è in un posto curioso che è sotto la voce terminal perché in realtà ovviamente il programma viene eseguito nel terminale e quindi devo dirgli senti fai partire questo terminale nella cartella principale oppure farlo partire nella cartella di progetto se andiamo nelle impostazioni sono qua scusa settings quindi ingranaggio settings cerco python tra le varie voci di python ci dovrebbe essere da qualche parte fatemi fare più spazio ce ne sono solo 34 python terminal no dov'è questo qua executing file directory vuol dire quando fai partire un programma fallo partire nella cartella in cui si trova e quindi i file che cercherà li cercherà nella stessa cartella in cui si trova il sorgente python se tolgo questa spunta lui farà partire il programma nella cartella principale del progetto che non è detto che sia la sottocartella in cui vive il file sta a noi scegliere ok io trovo più comodo questa impostazione qua così lavoro in vari progetti in varie sottocartelle e ciascuna nella sottocartella contiene i file relativi a quel programma lì che sto giocando quindi se per caso vi capita di avere un progetto organizzato per cartelle questo lo organizzate voi come volete e quando cercate di aprire un file vi dice che non lo trova e l'errore che dà è questo file not found error direi che spiega abbastanza perché è dato errore non l'ha trovato e valutate se il file e il programma si trovano nella stessa cartella e se avete dato questa impostazione al vostro vs code all'esame non ci saranno problemi perché ci sarà una cartella unica in cui lavorate non dobbiamo fare tanti esercizi uno solo quindi per fortuna non è un oggetto d'ansia da esame questo vale per quando facciamo e qui è scemo visual studio code per quando facciamo run per quando facciamo debug no cioè quando voi lanciate il programma in modalità di debug lui se ne frega di questa impostazione qua e non ce n'è una altrettanto comoda bisogna fare un passaggio un pochino più lungo e qua ci sono i passaggini con i numeretti a prova di di chiarezza di istruzioni in cui la prima volta dovete non far partire il debug semplicemente dal debug come siamo sempre stati abituati ma per la prima volta bisogna entrare in questo menu debug qui non me lo fa vedere perché l'ho già fatto prima e di fatto creare c'è scritto qua crea un file di configurazione launch.json questa è una roba interna a come funziona visual studio code che permette di salvare delle configurazioni di lancio per vari programmi e poi di scegliere che vuoi creare quindi clicchi su questo ti comparirà questa finestra e dici non voglio fare la run subito ma creami una configurazione di debug scegli python perché vogliamo eseguire e debuggare programmi python e fin qua è facile lui crea un file che si chiama launch.json che se lo salva in una sua cartella semina scosta che si chiama .uscode e bisogna aggiungere queste due righe a manina in questo file quindi questo launch.json è un file di testo in cui a mano ho aggiunto queste due righe qua occhio alle virgole agli acapi agli virgolette che devono essere giusti in particolare devono essere virgolette doppie non virgolette semplici questo c'è una virgola questo in fondo non ce l'ha deve essere esattamente così se no vabbè ve ne accorgete che vi da errore questo serve a far sì che anche in modalità debugging lui vada a cercare il file il comando chiave a questo cwd per current working directory cioè la directory corrente di lavoro è la stessa directory che contiene il file questo stiamo dicendo in qualche modo fatto una volta su quel progetto va bene per sempre non dovete più ogni volta però che create un progetto nuovo e all'interno di questo progetto nuovo volete dividere i programmi in sottocartelle e avere i file accessibili nella stessa sottocartella del programma dovete fare queste due cose questa seconda scusa me la prima cosa è un'impostazione di Visual Studio Code e quindi vale sempre su tutti i programmi la seconda è invece un'impostazione del singolo progetto e quindi va fatta progetto per progetto che è il motivo per cui non ho ancora lanciato debug insieme a voi finora su questi programmini è perché se avessimo provato a lanciarlo probabilmente vi avrebbe dato errore e allora adesso sappiamo come prevenire questo problema un altro dettaglio già che siamo sul capitolo rogne che è relativo solamente a chi usa computer con Windows quindi non non interessa chi usa il Mac non interessa chi usa Linux non interessa in sede d'esame perché si lavora su macchine virtuali Linux è il formato dei file noi abbiamo sempre detto Unicode no? che è il modo con cui vengono codificati i caratteri anche quelli delle lettere accentate finora erano dei numeri quindi chi se frega ma quando abbiamo dei caratteri accentati o caratteri particolari usano i codici Unicode peccato che la funzione open anziché aprire un file supponendo che sia in formato Unicode chiede al sistema operativo caro sistema operativo qual è il formato dei file che tu preferisci che hai impostato di default e Windows risponde non risponde Unicode risponde questa roba qua che è una codifica interna Windows prima di Unicode esistevano tante codifiche diverse poi il mondo si è unificato ma per motivi di legacy diciamo di compatibilità col passato quando tu avvii un programma in Windows lui parte con una codifica dei caratteri che non è quella Unicode e quindi rischieresti di leggere dei file che contengono se contengono delle lettere accentate per capirci noi le abbiamo scritte con un editor Visual Studio Code che salva i file UTF-8 vuol dire Unicode l'8 sta però su 8 bit salvato su byte non vi faccio perdere due ore a spiegare le codifiche Unicode che ne sono varie però quando noi scriviamo normalmente vediamo sempre questo UTF-8 sotto nonostante ci siano tante codifiche diverse ma usiamo sempre questa solo che Open solamente in Windows apre il file con una codifica diversa e quindi le lettere accentate le sballa tanto per capirci per un termine molto tecnico allora dobbiamo ricordarci di dire quando apriamo un file che di fatto contenga un testo libero in cui ci possono essere delle lettere dei nomi dei caratteri speciali basta semplicemente aggiungere alla funzione Open un ulteriore argomento che adesso ci abitueremo a scrivere sempre encoding uguale UTF-8 stiamo dicendo la funzione Open non chiedere a Windows che encoding usare perché te l'ho già detto io e so che UTF-8 è l'encoding in cui sono salvati tutti i file con cui lavoreremo perché così è giusto dimmi Unicode sarebbe un codice in cui assegna ad ogni carattere 32 bit che però sarebbero 4 byte è un po' uno spreco di spazio allora ci sono delle codifiche più compatte che permettono di far sì che i caratteri più frequenti quelli diciamo con le lettere normali oppure le principali lettere accentate occupino solamente 8 oppure solamente 16 byte quindi 1 o 2 byte quindi non è quando noi salviamo un file in formato diciamo Unicode non è l'unico puro in cui abbiamo 4 byte per ogni carattere ma è un formato già condensato utf sta per Unicode Transfer Format cioè un modo per trasferire i file Unicode con una certa codifica è appassionante perché si appassiona i bit però quando diciamo caratteri Unicode possono essere rappresentati fisicamente su file in modi diversi utf 8 è quello normalmente utilizzato perché è quello che è più compatto perché la maggior parte dei caratteri occupano effettivamente un byte solamente i caratteri più esotici occupano 2 o 3 o 4 byte addirittura quindi questa è la sigla che dobbiamo usare perché è la codifica che normalmente viene adottata ok fatto questo queste due premesse cioè ci siamo tolti di mezzo le rogne che dobbiamo gestire proviamo magari a affrontare l'altro esempietto con i voti cioè a questo punto un programmino che legga questo file e ci calcoli la media pesata di questi voti anche qua le informazioni sono organizzate per righe e quindi va bene leggere una riga per volta semplicemente però quando ho una riga dovrò separare le informazioni e poi farci dei conti sopra ok allora facciamo il file di media pesati media pesata punto pi allora adesso diamoci un pochino di struttura diamo il nome del file mettiamo in una costante così ce l'abbiamo tranquillo separato per ora non faccio ancora funzioni perché abbiamo solo 10 minuti poi ovviamente la settimana prossima la lettura del file la lettura dei dati la mettiamo in una funzione def leggi il file ti passa il nome del file e mi restituisci la lista con i dati che mi servono ovviamente adesso stiamo solo imparando le istruzioni di base allora cosa facciamo voglio aprire questo file f uguale open nome file in lettura poi male non fa aggiungiamoci l'encoding questo caso non serve a niente beh non è detto che non serve a niente perché magari nel nome dei voti c'è poi lo possiamo provare con e senza f.close come ultima istruzione e qua in mezzo ci metto le istruzioni di lettura del file cosa devo fare devo leggere una riga per volta estrarre il numero dei crediti e il voto e poi fare due conticini devo fare la somma dei voti moltiplicati per i pesi che mi darà il numeratore e poi la somma dei crediti che sarà il denominatore quindi devo calcolare la somma dei voti somma dei voti pesati e la somma dei crediti che dentro questo ciclo farò lavorare quindi semplicemente dunque avrò un while for for line in F la versione è breve read line read line read line è sottinteso da un for adesso che cosa ho? cos'è line? è un'intera riga che va dall'A di analisi fino allo spazio alla capo che segue il 25 allora vediamo che c'è uno spazio tra un campo e l'altro quindi potrei usare la split per prendere questa stringa e dividere in tre stringhe questo è il motivo per cui ho scritto analisi e non analisi 1 perché se avessi scritto analisi 1 qua avrei detto che c'è l'esame che si chiama analisi vale un credito e ho preso 10 non è bello se vogliamo avere dei nomi di esami che contengono gli spazi allora il separatore il carattere che separa i vari campi del file non deve essere lo spazio adesso partiamo facile quindi usiamo uno spazio dov'è? sono perso qua allora quindi avrò i vari campi di una riga che sono line punto split beh magari di questa linea togliamoci la capo che ci rompe solo le scatole quindi ho costruito molto frequente prendo una riga per volta di questa riga tolgo la capo finale e poi e poi la divido in base agli spazi ho un alto carattere di separazione tanto la split conosciamo basta dare il carattere di separazione fa lei e quindi possiamo a questo punto estrarre se ci servisse il nome dell'esame che è il primo campo i crediti di questo esame che è il secondo campo che ovviamente converte in intero e il vuoto dell'esame che è il terzo campo che anche lui converte in intero purtroppo questa versione non tiene ancora conto delle lodi perché 30L la L non è in intero quindi mi darebbe errore quindi io ho separato la lettura di una riga dall'analisi del formato di questa riga che è fatta su tre campi li vado a spezzare all'estrazione dei valori dei singoli campi e in questo caso conversione di dati eccetera e infine su questi valori qua ci posso fare i conti che mi servono a questo punto devo aggiornare somma voti pesati allora somma voti pesati uguale somma voti pesati più voto per crediti e somma crediti uguale somma crediti più crediti quindi queste sono variabili interne al ciclo for ogni volta vengono sovrascritte con i dati dell'ultima riga queste invece sono variabili che si accumulano nell'iterazione e alla fine del for hanno i due valori che mi servono e quindi la media pesata dovrebbe essere la somma di voti pesati diviso la somma di crediti non il numero di esami la somma di crediti e allora dirò che la tua media è f string la tua media è media pesata punto 2f con due cifre decimali allora cerchiamo di capire anche meglio vedere meglio cosa succede qua dentro fatemi eseguire questo semplice programma in debug allora sono arrivato qua ho solo definito queste tre variabili e poi parto con il debug da qui un'istruzione per volta la open cosa fa? crea un oggetto f che è di un tipo strano che contiene tante proprietà del file stesso ma non contiene il contenuto del file f non è il file è qualcosa che mi permetterà di accedere al file poi ho il mio ciclo for in cui entro nella prima iterazione e vedete che line lo allargo per un attimo contiene la prima riga del file sotto forma di stringa informatica spazio 8 spazio 30 barra n questa è una stringa poi eseguendo la rstrip mi toglierà questo barra n eseguendo lo split mi calcola questa variabile campi che è una lista di tre sottostringhe separate agli spazi questo è il lavoro normale di split qua ormai il fatto che l'avremo sul file non ci interessa più era una stringa l'ho divisa e a questo punto campi di 0 è il nome che tra l'altro non sto usando non mi serve è il primo campo crediti 8 è il secondo campo voto è il terzo campo e poi aggiorno queste variabili con delle semplici somme somma voti pesati somma crediti è passato 2,40 somma crediti è passato 8 e sono pronto a leggere la riga successiva del file la seconda riga è questa e vabbè il lavoro che faccio è lo stesso separo i campi estraggo i valori aggiorno le somme torno su terza riga questa è la terza riga stessa cosa lo voglio fare solo perché voglio arrivare all'ultima in questo caso dopo che ho letto la terza riga ovviamente il ciclo for cerca di andare avanti la read line dentro che farà mi dà una si accorge che arriverà alla fine del file e quindi non va avanti esce esce dal ciclo while perché ha finito la lettura del file la variabile line non l'ha toccata ma in realtà non dovremmo neanche guardarla chiude il file e poi fa la somma la stampa nulla di speciale ok quindi quello che ci stiamo cercando di visualizzare in mente è cosa sta succedendo qua ogni volta leggo una riga l'analizzo la uso la butto via nel primo caso ci serviva memorizzare i dati veramente presenti nel file e allora abbiamo fatto una lista in cui metterli dentro nel secondo caso per quello che c'eravamo richiesti non ci serve ricordarci esattamente tutti gli esami tutti i voti ma ci serve solamente calcolare la media e quindi ci siamo permessi di non ricordarci l'elenco dei voti o l'elenco dei crediti o l'elenco dei nomi e quindi abbiamo letto questi dati e li abbiamo dimenticati perché ogni interazione altrimenti se mi fossero serviti avrei creato una lista di stringhe per i nomi una lista di interi per i voti e una lista di interi per i crediti poi pareremo a fare un dizionario in modo che li tengano tutti e tre insieme questi da valori ma non ci cambia la vita ok vi voglio far vedere ancora cosa capita se io avessi dei caratteri accentati particolari no? gli esami dati in cors... adesso non è più tanto di moda quella là che fa il corsivo sui social allora se io avessi anche dei caratteri particolari questo programma dovrebbe funzionare correttamente vabbè scemo non mi sto stampando fatemi stampare me li stampa correttamente però visto che io sto usando un pc su windows se avessi dimenticato questo encoding mi avrebbe sballato i caratteri perché avrebbe letto una codifica utf8 un file codificato con questa regola utf8 di cui non sto entrando nei dettagli ma fidatevi e l'avrebbe letta usando una tabella di conversione diversa e poi però quando fa la print riusa di nuovo la tabella utf8 e quindi quando tu come se tu avessi due libri diversi con i numeri di pagine diversi dici fai l'esercizio pagina 37 e non ne fa un altro e succede questo quindi per questo dobbiamo ricordarci quando diamo gli esami corsivi di metterla in coding per il resto continuiamo mercoledì buona serata